Chi vuol capire capisce, poi mi chiedono sempre della politica. Tutti sti politici sti giorni che ci stanno... Siamo in par condicio tra l'altro. Non c'è problema. Stanno facendo... A me mi fanno solo pena. Non sento un politico che dice in televisione... Qualcosa... Diminuire... Quello che piace a me. Diminuire i deputati, massimo 150, 200... Alla Camera dei Deputati, 200 senatori. Ma non andare più uno stipendio di 25 mila euro, ma 10 mila euro sono più che sufficienti per vivere una vita dignitosa, non dare più le macchine blu, non dare più le scorte, perché chi fa il politico? Sono problemi vostri. Sono problemi vostri. E il cittadino ha da pagare tutte queste spese. Neanche da quell'altro... Chi si chiama? Con un grill, con lo... Griglin. Grigli, grigli, grigli. Comunque, si vede che c'è una par condicio anche là. Andate avanti così. Tante, prima volta, voi lo tenete a partire. E si lascia tutte qua. Andiamo a... Se lo volete capire. Io sono sempre per il popolo. Capisci? Non 25, 10 mila euro per vivere al mese sono più che sufficienti dignitosamente. Un Deputato... Eh? Niente, magari. Allora, non davanti a cui... Anche la metà. Quindi, anche andassero così... A me mi dispiace per i giovani che ne viene le mazze da colpa e scendono sulle piazze. Peggio per loro. Quindi, pertanto, mi sembra che abbiamo finito... ...